Gentili amici di Riviera 24, San Ramon e Cuneo 24, a tutti ben ritrovati e buonasera. Forse qualcosa lentamente si muove verso un miglioramento del tempo, una stabilizzazione, chiamiamola così, succede quasi ogni anno. A volte sconfina questa instabilità anche in giugno, a volte in altri anni magari a marzo il tempo è già abbastanza stabile. Comunque quest'anno aspettiamo questi primi del mese di maggio, metà maggio ormai, per poter dire to stavolta ci siamo, però deve transitare ancora un fronte. Vediamo adesso l'animazione, vedete l'alta pressione che si spande per il giorno 25 verso le nostre zone, però c'è ancora questa specie di fronte che trasla da ovest verso est e poi vedete che qua addirittura si dissolve praticamente, però può dare ancora qualche nuvolosità, soprattutto nella giornata di mercoledì. Per il resto io direi cielo sereno o poco nuvoloso, mercoledì avremo questo aumento della nuvolosità, magari un po' di instabilità, ma solo in montagna, no sulla costa, ma poi io direi che il tempo tornerà già dal pomeriggio di mercoledì o in serata a essere perlomeno sereno o poco nuvoloso. E poi terminiamo la nostra serie di giornate con giovedì con tempo generalmente soleggiato. Per il resto piogge sulla costa io non le segnalo, segnalo più che altro tra martedì pomeriggio, domani pomeriggio e mercoledì un parziale rinforzo del vento, con il mare che ora è mosso, diventerà temporaneamente molto mosso e poi giovedì quando partirà abbastanza bene l'alta pressione, allora diventerà poco mosso già nella giornata. Per quanto riguarda le temperature, solo quest'oggi e un po' domani avremo un effetto fin del vento di caduta, quindi le massime potranno risultare quasi gradevoli. Però le minime notturne si manterranno sempre tra 10-13 gradi, localmente 14. Quelle magari stenteranno un po' di più a rialzarsi. Per quanto riguarda gli amici della provincia di Cuneo, di Cuneo 24, anche loro subiranno questa nostra sorte con la perturbazione che transiterà nel pomeriggio di domani e fino al primo pomeriggio di mercoledì e poi tutto tornerà alla normalità. Adesso hanno un cielo sereno, un po' nuvoloso, qualche addensamento cumuliforme proprio sui monti che poi si dissolverà in serata. A tratto il cielo potrà diventare velato ma mai coperto e io sinceramente non vedo precipitazioni in pianura se mai qualcosa in montagna di pomeriggio. Temperature anche loro avranno il loro bravo e quindi le temperature massime potranno girare intorno ai 18-20 gradi, le minime magari un pochino più fresche tra 6 e 8 gradi in pianura. Io vi auguro una buona serata e ci vediamo a metà settimana circa. Buonasera.